Ebbene, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di artbook con i due artbook, attualmente in mio possesso, di Haruiko Mikimoto. Uno in realtà chiamato Visual Book, che è questo, e questo appunto l'artbook vero e proprio di Haruiko Mikimoto Illustrations. Il video sarà diviso in due parti, quindi in questa prima parte vi mostrerò l'artbook Quo Vadis, nel secondo video, che sarà appunto parte 2, vi mostrerò questo Haruiko Mikimoto Illustrations. Tra i due, vi dico, quello un pochino più difficile da reperire, anche se comunque si trova a prezzi un po' così, sui 30-40€, è questo, mentre questo qui ancora potete trovarlo su Ebay a prezzo di copertina o anche meno, io l'ho pagato tipo 5€, giusto per farvi capire. Quindi, inizierei appunto col parlarvi di questo Visual Book, vi dico brevemente a Haruiko Mikimoto, un famosissimo illustratore giapponese, io non ho mai letto niente di suo, ci sono dei manga che ha realizzato, tipo Macros, che vediamo appunto scritto qua, qualche roba di Gundam, insomma io non ho ancora letto niente di suo, mi limito semplicemente a parlare come illustratore, cioè a parlare di lui come illustratore, perché è quello che appunto ho visto con questi due artbook. Quindi direi di iniziare subito. Quindi in questo video vedremo appunto Kovadis Visual Book di Haruiko Mikimoto. Di questo artbook o visualbook, chiedersi voglia, non si trova niente su YouTube. Io ho cercato, non c'era modo di vedere le tavole, online qualcosa si trova, ma non si trova proprio in download completo, tipo di tutte quante le tavole presenti qui. Ho avuto la fortuna di trovarlo a un prezzo stracciatissimo in un sito da cui sto comprando ultimamente, che è RetroForce, tra l'altro secondo me ottimo sito per comprare volumi usati. In questo caso appunto edizione ovviamente giapponese, vi mostro tutto quanto. Ho voluto dare priorità appunto a questo visualbook perché non si trova niente online. Quindi ve lo mostrerò tutto quanto nella sua interezza, vi mostrerò proprio ogni, oddio, vi mostrerò proprio ogni cosa che è presente all'interno di questo visualbook. Volume cartonato davvero di pregio, con una sovraccoperta, tra l'altro anch'essa molto molto bella, con rifiniture in oro nel titolo e per il resto con un effetto metallizzato molto 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 bello. La costina, devo dire, è molto minimal, ma diciamo che non ha importanza. Parliamo adesso di questo artbook. Allora, Quo Vadis. Cos'è Quo Vadis? Dovrebbe essere, se non vado errato poi lo scriverò nel video se ho sbagliato, me lo dite voi nei commenti, dovrebbe essere un videogioco del Siga Saturn, se non lo ricordo male. L'avevo visto, me l'aveva passato un ragazzo in un gruppo Telegram questo videogioco, di cui ovviamente non ho mai giocato, non so praticamente niente. Dovrebbe essere una roba tipo sfondo politico alla Gundam. Quindi diciamo che questa Rui Komikimoto è abbastanza con le mani in pasta dentro Gundam, Macross appunto e queste opere che riguardano una sorta di politica, spazio e roba del genere. Quindi mettiamo che io non conosco un cazzo di quest'autore, conosco a grandi linee quello che ha fatto appunto, che sono queste opere che ho citato. Quindi sicuramente farò degli errori durante questo video, non mi sono informato più di tanto, era solo più che altro per mostrarvi questo artbook. Quindi iniziamo. Artbook, visual book, che comunque presenta all'inizio un pochino quello che contiene. E poi iniziamo con lo studio dei personaggi. Quindi praticamente è questo. Per la maggior parte sono studi dei personaggi o comunque illustrazioni dei personaggi principali di questo videogioco. Quindi ve li mostro molto così easy. Perché non li conosco, non so niente. Se siete fan della serie, io, scusatemi ma non me lo saprete dire voi di che tratta questo Quo Vadis. Se effettivamente è interessante. Non so se ci sono anime annessi. Bello questo personaggio tra l'altro. È che la ragazza in copertina. Se ci sono anime annessi o roba del genere che potrei guardare, che posso appunto vedere per informarmi. Per capire un po' meglio la trama. Piuttosto che giocare il videogioco perché dovrei prendere un emulatore effettivamente. Quindi è per la maggior parte tutto così. Poi ci sono delle illustrazioni. Queste. Molto 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 belle. Questa è assolutamente una delle mie preferite. E poi insomma andiamo avanti così con varie illustrazioni. Non c'è molto. È piccolino effettivamente. Per quello secondo me non vale troppo quella spesa di 30-40 euro. Io l'ho preso a 8. Ecco qua abbiamo la storia di Quo Vadis, il mondo di Quo Vadis. E qua ci viene elencato un po' di tutto. Però ovviamente è tutto in giapponese. Perché quest'artbook, questo visual book, è totalmente in giapponese. Quindi io non so dirvi nulla. Questo videogioco, appunto visto da qualche video su YouTube, presenta delle cutscene animate. Come queste. Ora non so se questo è effettivamente il videogioco oppure è l'anime in sé, se c'è un anime. Però comunque da quel video che avevo visto c'erano delle cutscene animate. Quindi vi mostro un pochino tutto. Troviamo le nazioni sicuramente presenti in questo mondo. Tra l'altro molto belli quei sistemi, molto molto studiati. E qua appunto abbiamo sempre i personaggi e poi sicuramente roba del videogioco che, ripeto, non conosco. Però è più che altro per mostrarlo tutto quanto, questo video, perché non c'è nessuno che l'abbia fatto vedere. Quindi voglio che magari qualcuno che sia interessato all'acquisto possa capire se effettivamente ne vale la pena. Quindi lo mostro nella sua interezza. Le varie navi, navi da guerra suppongo. Poi, ho visto più in là, c'è anche una sorta di intervista. Ecco, appunto, Special Talk. Non so chi sia. Non so chi sia. Sicuramente magari ha a che fare con il videogioco, o è il designer, o è quello che ne ha curato la storia. Non ho idea. Tra l'altro i nomi sono scritti sia qua che qua. Questo è Haruiko Mikimoto e questo è Nao Ito Yoshida. Quindi cercherò chi è questo. Potevo farlo prima del video? Sì. Però, meglio fargli a cazzo questi video, no? Comunque è una roba davvero lunga questa intervista e purtroppo non posso leggere, la ripeto. Quindi dovrei stare lì con Google Translate a vedere ogni frase. Sinceramente no, mi va. L'ho preso perché appunto stava pochissimo e perché c'erano delle illustrazioni molto molto belline. Quindi questo visual book finisce così. Ci sono queste due card attaccate al volume. Non sono state ancora staccate, quindi è praticamente come nuovo. C'era anche questo cosettino che danno in Giappone, insomma, quando acquisti il volume. E niente, questo visual book finisce così. Quindi l'ho trovato un visual book molto molto carino. Parecchia roba che probabilmente non capirò mai, se non qualcuno veramente appassionato che guarderà questo video, me lo scriverà nei commenti, tipo la roba delle interviste. Non so se si trovi in altre lingue, io cercando l'ho visto soltanto in giapponese. Quindi non ho idea se ci sia in inglese, francese, eccetera, eccetera, eccetera. Ditemi voi cosa ne pensate di questo visual book Aruiko Mikimoto Quo Vadis. Io l'ho trovato, ripeto, un visual book interessante, un art book interessante, con dei personaggi splendidamente disegnati. Però, secondo me, la vera chicca, da parte questo, è appunto l'altro art book che vedrete nel prossimo video. Io per adesso vi ringrazio e vi rimando appunto al prossimo video. Ciao a tutti!